Udienza finale oggi al Tribunale di Pesaro per l'omicidio di Ismaele Lulli. La Corte d'Assise dopo la ringa dell'Avvocato Taormina dovrà pronunciarsi sulla richiesta di Ergastolo avanzata dal PM Lillio per i due imputati dopo quattro ore di requisitoria il 15 marzo scorso. Igli Meta, esecutore materiale del delitto, e Mario Mema, suo complice, è presente sulla scena del delitto. Alle 10.20 fanno ingresso al Tribunale i due imputati, prima Mario Mema e dopo pochi minuti Igli Meta. Sguardo basso, volto teso per Mario, un breve sguardo alla mamma presente all'udienza. Presente un'altra mamma alla stessa udienza, la mamma di Ismaele che oggi saprà finalmente la verità e se gli assassini avranno il massimo della pena, come lei stessa aveva sempre chiesto. Aspettiamo questa sentenza, siamo fiduciosi perché io e mio figlio crediamo nella legge e lui oggi è qui, qui presente, quindi sono certa che i criminali andranno dentro perché i criminali devono stare dentro, non devono più far male a nessuno. Igli Meta e Mario Mema, due figure diverse e con coinvolgimenti differenti nel lato delittuoso ma legate indissolubilmente per uno dei delitti più efferati mai eseguiti nella provincia di Pesaro. Nel boschetto, a 50 metri dalla chiesetta sulla collina di San Martino in Selva Nera, i due albanesi hanno attirato Ismaele per un chiarimento. La sua unica colpa, una relazione amorosa segreta con Ambera, 19enne macedone, fidanzata al tempo di Igli. Igli sferra un fendente al collo del ragazzo che quasi lo decapita mentre Mario si dà da fare per cancellare le tracce e probabilmente occultare, assieme a Igli, il corpo della vittima, gettandolo in un dirupo. Oggi atto finale di questo processo arrivato a sentenza accompagnato sempre dalle dichiarazioni della madre Deborah che a gran voce ha chiesto che gli assassini del figlio marciscano in carcere. Sono molti colpevoli di questo delitto ma pochi sono sul banco degli imputati, lo afferma Carlo Taormina che assieme al collega a Asole tenterà di smontare la tesi accusatoria e scongiurare l'ergastolo al suo assistito mentre il collegio difensivo di Mario, per evitare il massimo della pena, punta su letto e nuanti come l'età e la partecipazione marginale al delitto come ruolo di palo. Ora non resta che attendere il verdetto dei giudici.